Ed è per questo che lei ha deciso di portare qui nei nostri studi il dottore Federico Fioretto. Buonasera e benvenuti nei nostri studi, che è l'ideatore responsabile principale del progetto Neutopia, lanciato all'inizio del 2008 in occasione dell'anniversario della morte del Mahatma Gandhi. Si tratta di un progetto culturale di ampio respiro orientato alla diffusione della cultura, della non-violenza e alla ricerca sulle applicazioni pratiche dei suoi principi psico-spirituali ed etici ai saperi e alle pratiche professionali. Allora, buonasera e benvenuti nei nostri studi. Insieme a lei cercheremo di capire ovviamente quando c'è un buono stato di pace interiore e poi insieme alla dottoressa cercheremo di capire che cosa succede quando questa pace non c'è e avevamo già incominciato ad addentrarci in questo discorso. Con lei invece affronteremo la parte quella più, diciamo, esterna, no? La parte esterna ha messo che ci sia poi qualcosa di esterno a noi nella ricerca della pace perché nella realtà la pace che incontriamo al di fuori è il riflesso della pace che abbiamo dentro. Il progetto Neotopia, che è quello che è stato citato fino adesso, è un progetto che nasce da un gruppo di persone, diciamo, io ci ho messo molto del lavoro e della pratica e quotidiana, ma in realtà c'è dietro un discorso articolato, ci sono molte persone che hanno una lunga esperienza nel campo degli studi sulla non-violenza, sul messaggio gandiano ed è un messaggio che poi è stato integrato nel mio percorso attraverso l'esperienza personale perché prima di dedicarmi a Anime Corpo, agli studi umanistici, agli studi su Gandhi, al percorso della non-violenza, io vengo da un'esperienza di imprenditore, di manager nelle aziende e quindi naturalmente mi sono rivolto ai problemi della mancanza di pace nelle strutture complesse. Chiaramente le strutture complesse diventano poi un riflesso del nostro branco originario, tanto per rimanere anche collegati al tema della biologia e della nostra natura umana e quindi delle dinamiche non pacifiche nelle relazioni tra le persone poi creano uno stato di malessere. Quindi sia a livello di Neotopia, sia a livello poi della mia attività professionale, il tutto è dedicato a cercare di trovare delle dinamiche di relazione pacifica tra le persone e questo nella società odierna che è basata invece su di modelli che nel campo degli studi sulla pace chiamiamo modelli strutturalmente violenti, è una cosa estremamente complessa. Quando in realtà relazionarsi secondo dinamiche pacifiche e prive di violenza sarebbe la cosa più naturale del mondo, cioè a noi verrebbe molto semplice. La cultura dominante nell'umanità per alcuni millenni, non tantissimi, ma circa un 5% della storia dell'homo sapiens sul pianeta, fa sì che invece ci complichiamo la vita con tutte queste dinamiche molto complicate. Non so se la regia in questo momento può mandare la prima slide con lo schema del modello relazionale della violenza, questo è uno schema di cui dobbiamo lo sviluppo a una studiosa belga, Pat Patford, e definisce come sono le dinamiche di questo modello che lei chiama maggiore e minore, che sono le relazioni impostate su un modello violento, cioè dove uno tende a prevalere o cerca di prevalere sull'altro. La relazione tra due persone è basata sulla ricerca della posizione diciamo dominante sull'altro. Queste tre colonne, adesso senza scendere nei dettagli precisi, ma mostrano come l'aggressività, che è un aspetto naturale, una predisposizione che abbiamo come tutti gli animali per procurarci il cibo e per assicurare la continuità della specie, si manifesta secondo questo modello in tre modi, cioè o uno la interiorizza, quindi diventa una vittima e per definizione una vittima è una persona scontenta e quindi questo poi ha tutta una serie di problematiche che le colleghe qui conoscono meglio di me, oppure c'è l'evento dell'escalation, quindi si continua ad aumentare il livello di violenza, si va dal non verbale al verbale e poi al fisico fino ad arrivare appunto alla violenza diretta, oppure c'è l'accadimento della catena della violenza, che è quando io subisco la tua posizione dominante allora mi rifaccio su qualcuno che è meno forte di me e qui si creano le catene. E qui entra molto in gioco il lavoro per esempio nelle aziende, nelle strutture complesse, alcune lavoriamo anche in collaborazione per esempio negli ospedali, nei luoghi di cura, dove ci sono migliaia di persone che hanno quotidianamente delle relazioni e che se non sono vissute in un modo diverso da questo portano a livelli di stress e poi alla fine a mancanza di salute, malattia. Nelle aziende per esempio che hanno l'obiettivo di massimizzare gli utili e i profitti porta a una mancanza dei migliori profitti conseguibili perché le persone non contente o malate lavorano malvolentieri e non rendono quello che potrebbero rendere, quindi è un discorso anche utilitaristico volendo.